Puglia in copertina all'ondata di maltempo che sembra non dar tregua alla provincia di Taranto. Le forti piogge delle ultime ore hanno causato l'esondazione del fiume Patemisco tra Massafra e Palagiano con l'acqua che in vari punti dopo aver superato gli argini ha invaso la campagna. La situazione è sotto controllo ma in queste ore imperversano le polemiche alimentate dai comuni del Tarantino e del Materano che si sono riuniti a Ginosa per fare il punto dei danni subiti dall'alluvione del marzo scorso dalla redazione di Potenza il servizio di Isabella Romano. Nove mesi di attesa, rassicurazioni politiche e istituzionali che si susseguono senza effettiva conferma nei fatti. Gli alluvionati di Puglia e Basilicata continuano a chiedere risposte al governo. Nel pomeriggio alle tavole palatine di Metaponto i membri del comitato Difendiamo le terre ioniche hanno incontrato associazioni e movimenti civici. Poi i consigli comunali congiunti di otto comuni della fascia ionica da Nova Siria, Bernalda, Montalbano a Ginosa aperti anche agli altri comuni e ai rappresentanti delle province di Taranto e Matera. Il portavoce del comitato Gianni Fabris è in sciopero della fame da quattro giorni fino a che il governo non sbloccherà i fondi per Puglia e Basilicata. A fine serata i cittadini e gli imprenditori danneggiati dall'alluvione dello scorso marzo decideranno come proseguire nella mobilitazione e non escludono di tornare coi trattori a bloccare la statale 106 ionica. Alla fine Italia...